Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide e quest'oggi andiamo a vedere una delle notizie che potrebbe sconvolgere il mondo delle criptovalute da qui fino alla fine dell'anno, o praticamente da qui a per sempre. Che cosa sta succedendo? Allora, punto primo, Soros. Punto secondo, famiglia Rockefeller. Bene, allora, dopo aver detto questi nomi vi spiego chi sono e cosa fanno. Soros è lo squalo degli squali, il più grande investitore per quanto riguarda il mondo del trading in America, il più grande investitore probabilmente, anzi mondiale. Infatti è diventato famoso dopo aver buttato giù la sterlina e aver messo in ginocchio la Bank of England. Quindi stiamo parlando di gente che primo ha soldi a non finire, secondo ha delle capacità e delle conoscenze dei team che lavorano sopra in quest'ambito pazzesche. Inoltre c'è anche la famiglia Rockefeller, una delle famiglie più ricche e potenti del mondo, che ha incominciato a valutare, anzi probabilmente non è solo una valutazione, ma quasi sicuramente nessuno di noi lo potrà mai sapere, vogliono entrare all'interno del mercato delle criptovalute. Questo cosa significa? Significa che il mondo sta incominciando a vedere i primi grossi squali, balene, chiamateli come cavolo volete, i primi ciccioni pieni di soldi che stanno iniziando ad entrare all'interno del mercato delle criptovalute. Tutto ciò logicamente quando c'è il più grosso down dopo la fine del 2017 dai 20.000 dollari, quindi il momento più nero delle criptovalute, bene, i grandi signori vogliono incominciare ad entrare. Questo perché? Beh, allora, ho ipotizzato una cosa, ossia il fatto che il cartello creato da Google, da Twitter, da Facebook, a causa di proprio il mercato delle criptovalute che sta rendendo molto più semplice un trader medio fare soldi e quindi anche investire in questo mercato sta vedendo, logicamente, far defluire tutti i soldi che erano magari prima nel mondo delle azioni e quindi proprio su queste azioni delle aziende, quindi Google, Facebook, Twitter e quant'altro, far defluire i loro soldi nel mercato delle criptovalute. E quindi in questo caso hanno incominciato a perderci in maniera importante anche se il mercato era sempre comunque in positivo fino all'ultimo periodo dove abbiamo avvisto, insomma, il crash di Facebook a causa della notizia di Cambridge Analytica. Dopo, logicamente, questo disastro, che cosa succede? Soros e la sua fondazione che tratta solamente 26 miliardi di dollari distribuiti in investimenti ha deciso di entrare all'interno del mercato delle criptovalute ma non per andare a fare trading ma per andare a investire all'interno di alcune aziende che lavorano in questo campo. Allora, andiamo a parlare con un po' più di dati alla mano. Prima di tutto, secondo quanto riferito, il 6 aprile da Bloomberg il fondo di investimenti statunitense Soros Fund Management, che attualmente gestisce asset pari a circa 26 miliardi di dollari, comincerà ad effettuare investimenti in criptovalute nonostante il capo del fondo, George Soros, abbia definito tale mercato una bolla. Infatti, tempo fa proprio lui definì il mercato delle criptovalute una bolla. Qui c'è scritto anche il perché. Perché secondo George Soros una valuta che ha la possibilità, anzi vi vado proprio a leggere la sua frase, il bitcoin non è una valuta, dato che una valuta dovrebbe essere una riserva stabile di valore. È un bene che può fluttuare del 25% in un giorno, non può essere utilizzato ad esempio per pagare i salari. Questa è una cosa giusta. Perché questi diminuirebbero del 25% in un giorno. Insomma, è una cosa abbastanza logica, però dobbiamo anche definire il fatto, come ve l'ho detto l'altra volta, se basiamo bitcoin su un valore che è paragonabile a fiat, è normale che avremo questo sbalzo di valore. Se invece tutto il sistema incomincia a lavorare su un valore di criptovaluta, allora in quel caso non ci sarà più un saliescendi di criptovalute, ma ci sarà soltanto un mercato come i Forex che andrà a sostituirsi ad essi con il mercato delle criptovalute. Comunque, il CEO, perché comunque alla fine chi ha l'ultima parola all'interno di questo fondo di investimenti è George Soros, però è stata comunque valutata la possibilità di entrare all'interno del mercato delle criptovalute e grazie proprio a questa possibilità di entrare all'interno del mercato si ha la paura che questa fondazione di investimenti possa iniziare a lavorare contro corrente e quindi remare contro proprio il mercato stesso. Bene, e questa è la notizia per quanto riguarda Soros Foundation Management. Mentre questa è la notizia per quanto riguarda l'ingresso all'interno del mercato di Rockefeller. Bene, allora, dopo il fondo Soros Foundation Management, anche la Venrock della famiglia Rockefeller, una delle famiglie più ricche e potenti al mondo, ha deciso di sbarcare nel mondo delle criptovalute. Infatti, venerdì scorso ha annunciato una partnership con CoinFound, uno dei primi portfogli diversificati al mondo di criptovalute e asset. Va bene, insomma, la sappiamo tutti quanti, se non lo sapete ci possiamo informare. CoinFound possiede un team di esperti di tecnologia bla 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 ed i membri del team provengono da esperienze come Goldman Sachs, Amazon, American Capital, insomma, nomi infiniti. La partnership è affidata a CoinFound, un mandato che gli permette di lavorare su tecnologia e su sviluppo di nuovi modelli, infatti c'è scritto qui, di nuovi modelli di business basati su reti decentralizzate. Quindi, praticamente, la Rockefeller, anzi la Venrock, ha dato in mano alla CoinFound dei fondi per andare a sviluppare nuovi business e nuovi metodi di investimento proprio basati su tecnologia blockchain e quindi decentralizzata, reti decentralizzate. Tutto ciò cosa va a portare questo, ossia questa notizia insieme a quella del fondo di Soros di cui vi ho già parlato prima, suggeriscono che si sta davvero iniziando a fare sul serio anzi, ormai è chiaro che si è già iniziati a fare sul serio tanto che anche colossi come questa società storiche, tradizionali, perché, ovviamente, lavorano sui mercati tradizionali hanno incominciato ad interessarsi a questo mondo e, ragazzi, stiamo un po' nella cacca questo perché? Perché aziende come queste entrano in borsa solo e soltanto per far abbassare i prezzi cosa significa? Se uno, per esempio, una persona come noi, avesse 2.000 euro da investire e con 1.000 euro sa che può far abbassare il valore del prezzo di un determinato asset di 10-15-20% cosa farebbe? Andrebbe a abbassare il valore del 10-15-20% perdendo il 10-15-20% venderebbe andrebbe ad utilizzare il restante 1.000 ora sto facendo un paragone 1.000 a 1.000 ma, logicamente, non lavorano così è proprio una teoria l'altro 1.000 li andrebbe a utilizzare per acquistare questa criptovaluta e poi, o questo asset, e poi investire ingenti quantità di denaro per recuperare sia il 15% peso e, in più, guadagnarci anche sopra logicamente, tutte queste famiglie, tutti questi fondi di investimento non andranno a lavorare nel breve termine dove, come già detto, George Soros si può perdere il 25% da un giorno all'altro nel mercato delle criptovalute e lo sappiamo benissimo basta guardare qui l'ultimo grafico ma andranno ad investire a lunghissimo termine perché si pensa, e ve l'ho già detto infatti, anzi, vi do una chicca nel 2009 è nato Bitcoin nel 2017 è arrivato a 1.000 dollari 9 anni, ragazzi, 9 anni 8 anni, diciamo quindi capite bene che per arrivare a 1.000 dollari ci abbiamo messo praticamente 8 anni dopodiché abbiamo fatto un salto da 1.000 a 20.000 dollari in 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi insomma, in un anno ma il picco massimo lo sappiamo benissimo che l'abbiamo beccato in un mese e mezzo quindi praticamente sanno benissimo che c'è la possibilità di perdere ma loro stessi investendo anche solo 10 miliardi di dollari con una market cap di 256 billion dollar quindi 256 miliardi di dollari avrebbero un pump così tale così grosso da poter arrivare a un valore del singolo coin di qualsiasi coin loro vadano a investire in qualsiasi coin loro vadano a investire così tanto alto che potrebbero anche solo guadagnarci il 100-200% e stiamo parlando di investimenti questi qui cioè trattano 26 miliardi quindi investimenti di questa portata significa che con un 100% di un miliardo sono 2 miliardi di dollari quindi stiamo parlando di ingressi di moneta e dei flussi nel momento in cui uno va a guadagnarci ingenti che noi non possiamo neanche immaginarci quindi ragazzi da un lato è positivo dall'altro sapete benissimo questi sono squali vogliono solo guadagnare e prendere sempre più potere bitcoin che cosa sta facendo è sceso del 5% 6.700 euro invece ethereum è salito rispetto a ieri perché l'abbiamo visto a 380 dollari invece adesso 390 però sta ancora in un pari ripple è sceso del 2% da 49 a 48 lo stiamo vedendo e insomma tutte le altre criptovalute le potete benissimo vedere qui e un'altra cosa voglio vedere i top i top sono nio tra i primi 10 con un semplice 5% az e verge con un 10% ragazzi peccato che non ho investito ho sbagliato veramente non riesco a farlo in questi giorni perché sono un po' impegnato con il lavoro però incomincerò molto presto poi vi spiegherò anche il perché e quindi questo è quanto andiamo a vedere velocemente trading view per quanto riguarda bitcoin per dare l'ultimo sguardo al mercato e vedere cosa sta facendo io vi avevo lasciato con questa diciamo questa previsione questo rettangolo ancora continua a rimanere all'interno di questo rettangolo anzi addirittura si è ristretto il rettangolo di movimento però guardate una cosa è rimasto all'interno di quest'area di prezzo che vi avevo segnalato guardate qui è sempre all'interno certo qui è un po' uscito ma bene o male è sempre in questo posto il prossimo livello di attenzione è questo quindi tra i 6.000 e i 5.000 e 400 500 quindi se ha un altro down potremmo trovarlo in quel punto ha ormai oltrepassato questa linea di demarcazione e ragazzi il mercato delle crypto sta andando proprio in questo senso quindi stiamo perdendo stiamo perdendo stiamo perdendo questo non è il momento di investire è il momento di studiare e di imparare a lavorare sui mercati in generale bene ragazzi grazie per aver visto il video aspettate che allargo l'immagine così mi vedete bello col mio fascione eccolo qua grazie ragazzi per aver visto il video vi ricordo di mettere mi piace di commentare qui sotto di iscrivervi al canale e di andare a visitare la mia pagina facebook e il mio account steemit davide.vasco grazie per aver visto il video e al prossimo video ciao